Il caso sulla morte di Giulia Di Sabatino, la giovane 19enne di Tortoreto, potrebbe riaprirsi con nuovi sviluppi. La famiglia della ragazza che non ha mai creduto che Giulia si fosse tolta la vita ora punta su un particolare macabro, ma dirimente l'indagine difensiva sulla morte della giovane, deceduta il 1 settembre del 2015, giorno del suo 19esimo compleanno a Tortoreto. Apparentemente suicida dopo essersi lanciata dal cavalcavia della 14. La famiglia, attraverso i consulenti italo-americani della M-Team e i suoi legali di Napoli che stanno coordinando le attività, ha qualche elemento in più per ritenere che in realtà possa essere stata uccisa. Quello che abbiamo sempre sostenuto noi da sei anni a questa parte, noi ci siamo sempre battuti affinché uscisse fuori questa verità. Adesso con i nuovi riscontri che sono stati trovati da questa società, ci sta dando una grande mano perché sinceramente noi non saremmo mai riusciti ad arrivare a quel tipo di risultato. Si evince che tutti i dubbi che noi avevamo stanno uscendo fuori. Adesso la speranza è che con i nuovi dati che si hanno a disposizione si possa riaprire il caso e fare un processo giusto a questa storia che è diventata senza fine. A destare perplessità nei consulenti è un dato l'assenza di tracce di sangue rilevate su quella strada malgrado l'impatto con i veicoli. Non solo i tecnici informatici incaricati dai genitori della vittima sono riusciti a recuperare oltre 3.000 foto e numerosi dati cancellati dopo la morte della ragazza. Questo era il dubbio che abbiamo sempre avuto e che abbiamo messo in evidenza più volte nelle trasmissioni e anche in procura perché il fatto che sul cellulare di Giulia da metà luglio fino a fine agosto risultassero pochissime chiamate, pochissime telefonate, a noi ci sembrava molto strano. Adesso si capisce il motivo per cui queste telefonate non risultavano, erano state cancellate. Adesso aspettiamo gli esiti dei tecnici per vedere che cosa è stato cancellato. I consulenti medico-legali di M-Team sono già pronti a portare all'attenzione degli inquirenti novità scientifiche provenienti dal luogo di ritrovamento del corpo di Giulia con la dimostrazione di una dinamica del decesso totalmente nuova.